Torna il telegiornale dei sovranisti arcaici, il gruppo di patrioti che non deve assolutamente e mai essere confuso con gli impostori leghisti vili e traditori del popolo, per informare i lavoratori sul referendum confermativo della legge di modifica costituzionale per il taglio dei parlamentari, oggi tutti i politici, di tutti i partiti, sono dei figuranti ai quali viene ordinato di manipolare l'opinione pubblica, sono pagati per questo e, nella logica di risparmiare sui costi ma soprattutto di controllare meglio il cast, il gruppo dirigente e digerente di questo disgraziato paese tenta di ridurre il loro numero, questa è la sola ragione per cui il Movimento 5 Stelle è stato incaricato di intestarsi il progetto, sostenuto ovviamente dal Partito Democratico, ma anche dalla Lega, al dispetto delle farloche giustificazioni adotte dal pupazzetto con tre nomi già autore in passato di altre brillanti operazioni di circonvenzione di incapaci come ad esempio la famosa strategia, desta scandalo che il Movimento 5 Stelle abbia l'ardire di presentare il taglio dei parlamentari come un risparmio per i conti pubblici, quando questo stesso gruppo di figuranti per anni aveva sostenuto la necessità di tagliare i loro emolumenti, e induce alla depressione il fatto che nonostante questo evidente voltafaccia che si somma a moltissimi altri questo partito politico sia ancora accreditato nei sondaggi di un 15% dei consensi, resta incomprensibile il grado di fidelizzazione di un partito come la Lega di Chiara Ispirazione Liberista, che da decenni persegue la fine dello Stato Unitario in favore di un assetto federale funzionale alla costruzione di un'Unione Europea delle Regioni, e ciò mentre questo stesso partito si è affermato grazie a una potente campagna contro l'Unione Europea immediatamente sconfessata dopo le elezioni. Parimenti il Partito Democratico, fautore della scelta europeista e responsabile di aver scaricato solo sui lavoratori i costi di questa decisione sbagliata, invece di scomparire riesce a sopravvivere grazie allo stratagemma di invocare inesistenti allarmismi sul ritorno del fascismo, per di più insistendo nel descrivere il popolo italiano come razzista e omofobo, una vergognosa menzogna propalata con grande dispendio di potenza di fuoco mediatica a reti unificate e di titoloni su giornali che non legge più nessuno ad eccezione dei titoloni stessi. Infine il fenomeno Giorgia Meloni, portavoce di un partito erede della tradizione fascista che da qualche mese viene rappresentata come una grande statista, in aperta contraddizione col presunto ritorno del fascismo, in questo scenario desolante le sparute forze che si muovono dal basso sembrano aver completamente perso la bussola, e di questi giorni il ritorno in grande stile della Madar Mani Ziri, MMT, con un convegno alla presenza di un rappresentante di questa teoria economica. La domanda che dobbiamo porci è se i promotori pensino di dover insegnare a Cristina Lagarde come si gestisce l'economia monetaria immaginando che la presidentessa del Fondo Monetario Internazionale non lo sappia. L'impressione che si ricava è che solo un numero ristrettissimo di persone riesce a capire la differenza tra obiettivi politici e strumenti per perseguirli, e che la gran parte di coloro che si ritengono oppositori del sistema di potere liberista e anticostituzionale che domina in contrastato l'Italia stiano semplicemente sgomitando per conquistarsi un posto al sole, come prima e meglio di loro hanno fatto diversi e ben noti traditori del popolo. Ebbene allora ricordare che gli obiettivi politici consistono nel costruire la rappresentanza politica delle classi sociali che non l'hanno, mentre gli strumenti per fare ciò non devono essere inventati perché esistono già, sono come dei medici che propongono cure per salvare la vita a un condannato a morte, mentre l'unica cosa da fare è quella di sfondare il muro della prigione e portarlo in salvo, fatto questo, e solo dopo aver fatto questo, si potrà discutere.